Per la prima volta all'ospedale Vittorio Emanuele Di Gela, diretto da Luciano Fiorella, è stato eseguito un intervento specialistico in prostatectomia radicale. Ad eseguirlo su tre pazienti di età compresa tra i 50 e i 60 anni è stata l'equipe medica formata da Nuccio Condorelli, dirigente dell'unità operativa di urologia, coadjuvato da Danilo Bottero, esperto urologo di incontinenza urinaria maschile proveniente dall'Istituto Europeo di Oncologia. Presenti anche Carlo Gitana, Franco Iragi, Nino Branchina e Claudia Calì. I tre pazienti finalmente hanno detto addio alle perdite di urina. I tre pazienti che hanno subito l'intervento chirurgico non avranno più bisogno del pannolone? Sì, proprio questo era il nostro obiettivo, crediamo di esserci riusciti perché soffriamo di incontinenza. L'incontinenza, sappiamo tutti cos'è, è una perdita involontaria di urina. Ma come si è intervenuti? Con una piccola incisione nel perineo che è la zona proprio sotto lo scroto, mettendo una bendarella, dall'inglese si chiama sling, e questa bendarella non fa altro che sollevare l'uretra, pertanto spingendola non fa perdere pipì. Ed è il primo intervento che viene eseguito qui al Vittorio Emanuela? Sì, a Gela credo che sia proprio in assoluto il primo intervento. Sono pazienti che sono venuti da un'altra provincia, quindi noi cerchiamo in ogni caso di invertire quel trend che prima era in negativo di importazione di pazienti. Ma l'incontinenza riguarda soltanto una fascia alta oppure anche i ragazzi possono soffrire? No, purtroppo l'incontinenza può colpire tutte le fasce di età. Nel caso specifico la incontinenza di questi pazienti era dovuta ad un intervento precedentemente eseguito da me stesso quando ero a Catania in pazienti che hanno avuto un tumore alla prostata. Soffrono più donne o uomini? Essendo una patologia sia maschile che femminile sono uomini e donne. Dipende dall'età ovviamente, ma in questo caso, ripeto, essendo uomini perché colpiti da tumore alla prostata in questo caso abbiamo risolto un grosso problema molto fastidioso e imbarazzante per la qualità di vita del paziente a degli uomini ovviamente. E alla fine degli interventi i pazienti cosa le hanno detto e cosa vi hanno detto? Certamente, loro l'indomani erano già a casa nella loro città, sono molto felici, li ho sentiti stamattina e chiaramente hanno risolto questo annoso problema che si portavano da diversi anni.